Signori e signori benvenuti nelle profondità dell'abiss dove neanche farlo apposta hanno deciso di iniziare un nuovo contest per decidere quale sarà il nuovo monarca della situazione abissale. Allora il gioco è molto semplice sostanzialmente noi dobbiamo cercare di fare reclutare più nobili possibili e fare più punti possibili semplicemente come si fanno i putti con i nobili. Allora il tabellone come potete vedere è diviso in tre aree abbiamo l'area di ricerca appunto dei nostri alleati, l'area del consiglio quindi la zona politica della situazione e l'area dove possiamo, la corte dove noi possiamo appunto acquistare i nostri nobili. Allora praticamente inizio partita noi facciamo un setup di questo tipo dove appunto doppiazziamo i nobili in questo ordine. Man mano che noi compriamo i nobili questi andranno avanti semplicemente. Il prezzo di acquisto nobile è determinato da questo valore che è un 10 e dai suoi colori. I colori vincolano l'acquisto ma quali sono questi colori? I colori sono gli alleati perché guardate un po' gli alleati hanno i colori corrispondenti ad esempio il verde è questo qui. Per comprare questa carta mi ci vorranno 6 punti, questo ne ha solo 5, un verde e due carte di altri due colori diversi da me scelti. Ad esempio potrei mettere il viola o è questo qui. Sono tre colori e soddisfo la quantità richiesta dalla carta. Una volta acquistate le carte possiamo praticamente metterla nella nostra personalissima area di gioco. Acquisteremo i punti, le chiavi eventuali e l'abilità. Se c'è una freccetta, non è questo il caso ma questo sì, l'abilità si attiva istantaneamente se no è un permanente che dura durante il gioco che ci darà vari bonus. Vale appena spendere due parole per la parte di acquisto degli alleati che è molto importante. Allora io questa carta la metto in gioco durante il mio turno spendendo un'azione. Subito dopo il giocatore può fare un'offerta di 1 e così a seguire. Se nessuno prendere la carta io posso intascarmi la carta o in alternativa posso andare avanti. Questa carta però ha un costo di offerta che vale a 2. Stesso discorso e si va avanti. Se per disgrazia arrivo avanti con l'asta bla 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 arrivo fino qua, questa carta la prendo in automatico e prendo anche una perla. Le altre carte andranno nel consiglio a riempire i vari colori e rifaranno mazzetti. Come azione posso anche prendere un mazzetto. Cosa molto importante da dire sono queste tabelline qua che si possono attivare spendendo fino a tre chiavi. Le chiavi come abbiamo visto si possono prendere dal monitor oppure combattendo contro dei mostri oceanici. Ma questa è una cosa più a più dettagliata. Veramente un bel tentativo quello di Catala per questo Abyss. Ha tirato fuori un bel giochino di carte. Nulla che faccia gridare al miracolo in verità. Nulla di particolarmente originale. Partendo dalle meccaniche di fatti ritroviamo, se lo ricordiamo, la condizione di fine partita che ritroviamo anche in Sitades ad esempio, parlando di uno dei più noti dello stesso autore. Anche qui come per gli edifici di Sitades vanno collezionati sette nobili per sancire la fine della partita. Ed i nobili anche in questo caso forniscono buona parte dei punti vittoria che servono al giocatore. Sempre a proposito delle meccaniche, nulla di particolarmente innovativo anche per quanto riguarda il cuore del gioco. L'azione principale a disposizione del giocatore cioè la soldare alleati. In questo caso ritroviamo quella sorta di asta che possiamo ricordare anche in Goa. Quindi chi è di turno mette a disposizione una carta per tutti i giocatori e quindi in un unico giro di asta è possibile accaparrarsela e chiude il giro chi è di mano e in questo caso ottiene la carta gratuitamente quindi non c'è più lo sconto. Insomma, meccaniche in qualche modo già viste. Però l'aspetto veramente positivo è la confezione nella quale il tutto è stato riso. Mi spiego. Mi fa storcere da un lato il fatto che siano a disposizione in commercio cinque copertine possibili per questo titolo. È una cosa che lascia un pochino il tempo che trovo. Insomma, quindi a seconda del faccione che volete rappresentato sulla copertina è possibile acquistare la scatola relativa. È un aspetto che mi appunto mi fa storcere il naso da un punto di vista commerciale però non influisce sul mio giudizio complessivo. Quello che invece influisce positivamente è come il tutto è stato riso e cioè l'ambientazione può anche essere abbastanza debole però la componentistica è così ben fatta da rendere Abyss immersivo. Può sembrare un aggettivo ironico insomma riferito ad Abyss però mi dà questa sensazione. Nelle più partite che ho fatto il tutto è reso così bene. Quindi tabellone con toni scuri, i personaggi rappresentati sulle carte, i nobili in particolare ma anche gli alleati dei loro colori ben distinguibili quindi in funzione del gioco sono fatti veramente in maniera superba. E durante la partita appunto rendono comunque evidente questa atmosfera dark che mi fa dimenticare anche il fatto che sia un gioco fondamentalmente astratto. È un gioco di carte ripeto di collezione set che non ha nulla di innovativo appunto dal punto di vista delle meccaniche però ecco si fa apprezzare proprio per l'atmosfera che riesce a ricreare che di cui ho goduto nelle due o tre partite che ho sulle spalle. Quindi in definitiva Abyss stia fuori dal mio gusto personale un 7. PS chiedo tantissime scuse a Bruno Catalan e anche a Bruno Feidutti a cui devo rendere merito del fatto che sia l'autore di Citadel, quindi di Citadel, di Faidutti, quindi non di Catalan, resta il fatto che la condizione di fine partita è la stessa, sono entrambi francesi e quindi ho ragione. Allora, che dire, questo Abyss ha avuto prima della sua uscita una grandissima operazione di marketing, filmati, pubblicità, questa grafica spaziale perché è veramente tanta cosa. Cioè è stato fatto un gran lavoro sotto e anche le cinque scatole diverse l'una dall'altra. Una grande operazione, devo dire, questo gioco. E la domanda fondamentale è, certo, l'occhio è stato accontentato e tutto il resto? Beh, ero partito un po' col freno a mano su questo gioco, anche se c'erano molte attese. Però devo dire che le meccaniche, tutto sommato, che sostengono tutto quanto, sono state apprezzate, almeno dal mio punto di vista. Perché? Perché tutto sommato, il gioco non è niente di incredibile. Si tratta di un qualcosa poco al di sopra di un filler. Però è stato fatto tutto abbastanza bene. Soprattutto è interessante la parte in cui avviene la scelta degli alleati, dove si deve prima contrattare con gli avversari ed eventualmente poi tenersi una delle carte, oppure cedere e quindi proseguire nella scelta per poi lasciare che gli alleati che sono rimasti nella parte alta finiscano nei mazzetti sottostanti e quindi concedendo qualcosa a chi viene dopo di voi, fondamentalmente se il mazzo comincia a essere interessante da acquisire. Ecco, mi piace questa meccanica di dover scegliere per poi eventualmente cedere a qualcun altro parte di... ben fatta. Bella e interessante anche la parte di acquisizione dei nobili, che non è niente di innovativo rispetto ad altro. Però mi piace il discorso dei poteri che possono essere utilizzati fin tanto che non siamo vincolati a prendere un territorio da sovrapporre a quanto è scritto sulle carte. Quindi una serie di limitazioni che però non sento così vincolanti oppressive ti viene rimosso un vantaggio per comunque averne un altro per far punti a fine partita. In soldoni un prodotto ben confezionato, ben realizzato, graficamente non c'è nulla da dire, fatto più che bene. Un'operazione di marketing con i fiocchi, che su questo non possiamo dire assolutamente nulla da questo punto di vista, ma che comunque porta sul mercato comunque un gioco che si fa apprezzare, per cui possiamo tranquillamente dargli un sette e mezzo e andiamo negli abissi. Che dire di Abyss? Allora la cosa che probabilmente mi rimarrà più impressa di questo gioco è la massiccia campagna di marketing che ha portato ad realizzare ben quattro scatole diverse, con diverse copertine. E voglio subito dire che darò un voto bassissimo perché la scatola che ha preso male mi sta preso quella con la ragazza col corno, mentre io preferisco quella col ciccione che però non si vedrà mai. Passiamo alle cose serie. Allora i giochi di aste non sono tra i miei preferiti sicuramente, soprattutto quando la meccanica di aste è quella preponderante, ma qui è fatta in modo molto particolare, direi tedeschizzata quasi, nel senso che ognuno ha il suo momento per fare l'offerta e nel momento in cui viene fatta è escluso, quindi non partecia più alle altre offerte. Quindi devo ammettere che mi è piaciuta, non mi dispiace. È bello il meccanismo per cui gli alleati vengono piazzati in mucchietti e quindi nel tuo turno poi decidi buttare via l'attuazione, buttare via tra virgolette l'attuazione per andarti a prendere gli alleati, i rimasti, anche se questo è una forte pro e contro. Forte ventaglio, sì, ampio ventaglio strategico che permette effettivamente di vincere percorrendo diverse strategie, anche se la mia sensazione è quella, non dico preponderante, ma comunque con una certa valenza sia quella di collezionare territori che effettivamente danno parecchi vantaggi. Che tra l'altro i territori sembrano tanti, ma in realtà non è che si ripetono perché siano uguali, però hanno la stessa proprietà magari di portata alle 4-5 gilde, mi sembra forse 6 gilde che ci sono nel gioco. Quindi in realtà farete presto a guardarli, conoscerli tutti. È molto bello il dettaglio del fatto che ogni gilda di nobili ha la sua proprietà speciale, per esempio ci sono quelli gialli che non hanno proprietà speciali ma danno molti più punti, oppure ci sono invece quelli verdi che tendono a darti perle e cose simili, quindi una buona caratterizzazione effettivamente dei personaggi. Mi ha lasciato forse un po' più deluso nella meccanica della murena, che forse si potrebbe fare un po' meglio, non è così preponderante. È difficilmente secondo me un giocatore che la fa uscire, almeno che proprio non abbia necessità delle carte che vede o la murena sia abbastanza avanti nel percorso sia spinto effettivamente a sceglierla. Sì, mi lascio un po' perplesso su questo. Forte propensione del caso, questo sì, si sente, si può sentire parecchio. Detto questo, andando alle somme, per me è un 7,5 pieno. Sì, un bel gioco, mi è piaciuto. Allora, sarò un on-the-board pieno di PS ma qui vi fanno giustamente notare gli altri nauti. Volevo dire una cosa, ma ho usato il termine sbagliato, il giocatore non esce perché fa un'offerta, esce dall'asta quando viene accettata l'offerta che fa. Pardon. Mi trovo in una situazione molto scomoda perché i due nauti prima di me hanno sbagliato qualcosa. Ora, voi capite, il re dell'errore che si trova in una situazione del genere è in panico totale, quindi sarò molto breve. Abyss è un gioco che ha vinto per me dal punto di vista grafico. Cioè, voglio dire, il gioco non è niente di eccezionale, non mi ha fatto gridare al miracolo, mi ha divertito, fine. È il classico, quello gioco di cui vai a chiedere, oh, com'è quel gioco lì? Oh, Corino. Ecco, Abyss mi dà questo come sensazione. Però, ragazzi miei, la grafica fa tutto in questo gioco perché tutte le volte, e l'ho giocato veramente tanto ultimamente, mi sono trovato a guardare le carte, cioè quasi mi perdevo in questa bellissima scelta cromatica, ma anche sui disegni che sono veramente a un livello impressionante. Guardate che belle. Cthulhu, eh? Detto questo, posso, sì, consigliare ai giocatori anche le prime armi questo gioco perché è veramente semplice. C'è abbastanza fortuna, quindi anche se uno non è proprio capacissimo come me può rimontare, quindi è bello. L'unica forse pecca di tutto questo insieme per me è la murena. La murena mi ha deluso perché quando mi hanno detto che si andava a combattere la murena io non pensavo fosse un segnalino che scendeva e basta. Mi aspettavo un tiro di dado, un mostro, una cosa ciclade per dire. Però tanto bello. Non so perché, mi ricorda anche Seven Wonders, io gli do un bellissimo sette. Posso decidere di intascarmi la carta, no? Sì. Quello è Goa. Ok, quindi abbiamo giocato per giorni a un gioco diverso. Bene, 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 bene. Ciao. Ciao.